Sembra essere passata la fase critica dell'emergenza Covid a pieve di Cadore. A preoccupare molto nelle scorse settimane era in particolare la RSA Marmarole. Possiamo dire che la situazione attualmente sta rientrando alla normalità gestionale per quanto riguarda la casa di riposo Marmarole. Dal momento che un po' alla volta, giorno dopo giorno, molti ospiti si vanno negativizzando, la situazione era veramente preoccupante per il numero degli ospiti positivi, per il numero degli ospiti che sono finiti in ospedale, per il numero degli ospiti che sono anche deceduti e contemporaneamente la preoccupazione era salita alle stelle per quanto riguarda gli operatori. Ecco, adesso un po' alla volta si è ristabilito tutto, i positivi sono meno di 20, gli operatori sono quasi tutti rientrati, ma anche ancora un tassello al mosaico gestionale della casa di riposo. Sono gli infermieri che non riescono a trovare e quindi fanno i salti mortali, i pochi che ci sono, per poter seguire adeguatamente questo livello assistenziale. Dall'altro lato, ancora buone notizie dalla casa di riposo comunale per autosufficienti, che conferma il suo stato di covid free. Fino ad adesso la casa di riposo per autosufficienti, che è ospitata presso l'ex Hotel Dolomier, è free. Né in primavera né adesso sono stati registrati casi di positività. Mentre anche la situazione dei contagi tra i cittadini sta migliorando, tanta attenzione è stata posta nelle scuole, dove i pochi casi positivi e le rispettive classi sono stati prontamente isolati.